Fra Shahzad Kokar, frate Cappuccino, nato in Pakistan, in un paese vicino a Lahore, hai partecipato insieme ad un gruppo di frati Cappuccini a creare la prima tv cattolica nata a Lahore, Catholic TV, adesso vivi a Roma da quattro anni, studi lingua araba e islamologia. Ci racconti un po' la storia di questa tv, com'è nata? Sai che come è cambiato il tempo, la media è una grande voce, per questo i nostri frati Cappuccini, in un modo particolare, padre Mores Gelal, che anche era il parrocco nel Lahore, c'è una parrocchia chiamata Kotlakpat, Kotlakpat, questo è proprio un grande territorio dove la maggioranza sono cristiani. e là lui ha cominciato un'opera di Cappuccini, più o meno decenni fa, e questo è quando lui ha cominciato tutti i cristiani, amato in un modo molto particolare. Parliamo di una tv cattolica in Pakistan, spieghiamo anche che il Pakistan è un paese al 97% musulmano, il restante 3% sono le altre minoranze religiose, tra cui i cristiani, che rappresentano circa l'1%, ed è purtroppo anche un paese che è tra i primi posti per quanto riguarda purtroppo il livello di limitazioni delle libertà religiose. Sono ostacolate le conversioni, le minoranze sono spesso perseguitate anche attraverso l'uso di alcune leggi, quali ad esempio la legge sulla blasfemia, di cui parleremo in maniera più approfondita dopo. Quindi che cosa significa essere una tv cattolica in Pakistan? Sai, la chiesa come in Pakistan soffre tanto, e in questo scenario per avere un tv cattolico è molto difficile, questa è una grande sfida, perché prima di tutto questo tv non è una cosa proprio grande, e è una cosa che abbiamo nel più o meno in 10 città. E ci sono tante sfide, tipo abbiamo spento tanti soldi di cominciare una città, e dopo, appena quando tutte le cose erano già pronte e venuti alcuni fondamentalisti hanno buttato tutto via. E noi non abbiamo quella voce di resistere, la forza dobbiamo chiudere. C'è il problema economico, c'è il problema economico, c'è il problema economico, c'è il problema economico, e per questo fondamentalisti creano tanti problemi, specialmente per mostrare la fede cristiana, non è così accettabile per loro. Se pensiamo appunto alla fede cristiana legata al Pakistan, non possiamo non pensare ad alcuni nomi che sono diventati tristemente il simbolo anche della persecuzione cristiana. Pensiamo a Shabazz Bhatti, che fu il primo ministro cattolico per rappresentare proprio le minoranze religiose, che fu assassinato proprio per la sua battaglia contro la legge sulla blasfemia. Pensiamo ad Asia Bibi, ecco la legge sulla blasfemia è diventato un po' anche uno strumento per perseguitare le minoranze, perché non è neanche necessario che si porti una prova per un'accusa, giusto? Sì, guardando questa sfida, io come ho lavorato su questa legge blasfemia, è un tema molto profondo, prima di tutto perché nell'istoria, noi guardiamo, questo anche era nell'ebraio, nel giudismo, questo c'era la legge. E anche una volta nel cristianismo c'era questo molto forte. Dopo di questo hanno preso i musulmani. Ma questo, guardando in Pakistan, questo era proprio cominciato nel 1927, in India, come prima India e Pakistan erano l'unico paese. E c'era, come i musulmani, erano minorenza e per proteggere come minorenza, questo a Grande Bretagna hanno giunto una legge, questa legge blasfemia. Spieghiamo che la legge sulla blasfemia è una legge che punisce con l'ergastolo chi profana il Corano e con la pena di morte chi oltraggia il profeta Maometto. Non solo questo, la legge blasfemia ci sono in tanti altri paesi. Anche ci sono alcuni paesi nell'Europa, come anche gli Stati Uniti, anche in Asia ci sono tanti paesi. Anche ci sono più o meno 97 paesi dei musulmani che hanno questa legge. Ma il Pakistan è l'unico paese che il suo legge blasfemia è tutto diverso. Perché, prima cosa, guardando, è la pena della morte. Qualsiasi legge è che quando uno fa la legge c'è sempre un'intenzione. che uno, per esempio, io, con me c'è il Corano e cade il Corano con sbagliamenti, non è che con tensione, che cade. Per loro già è una blasfemia. E qualcuno può accusarti in quel momento? Sì, per là non c'è la possibilità, per me, di vivere. A volte, per esempio, lei ha parlato di Shai Basbati, di Asia Baby. Io, per esempio, io dico che questi sono solo due esempi. Ci sono più di mille persone che sono già condonate. Ci sono tantissime persone nella prigione. E in queste persone ci sono bambini, ci sono professori, ci sono anche capi musulmani, cristiani, pastori, hinduci, e la maggior parte, anche un bel numero, di Ahmadi, un gruppo, che sotto questa legge sono condonati. Come io sto parlando, la legge di blasfemia in Pakistan è tutto diverso. In primo modo, che non c'è l'età. Anche un bambino fa questa cosa e anche lui è condonato, o lei è condonato. E una persona mentalmente, quando è disabile, anche successo da lui o lei è condonato. Le persone, persone di più età, io ci sono tanti esempi. conosco di una che era di 86 anni. Uno era di 85 anni, che il giudice ha già dato che... La condanna. No, ha già dato che lui era innocente. Ah, la soluzione. Ma appena lui è uscito, un altro estremista ha ucciso questo... Perché poi c'è anche questo problema. Spesso vengono uccisi prima dai fondamentalisti, prima ancora di arrivare ad un processo. Sì, questo è il problema. Ma per esempio, vedo un esempio di una... di Guanna, Suleman Tassir, che il suo guardia ha ucciso a lui, perché lui ha la sua attenzione di riguardare la sua condanna su Asia Bibi. La condanna su... Cioè, lui si stava battendo per il caso di Asia Bibi. Per guardando, quando il suo guardia, come si chiama Mamta Skadri, e lui ha ucciso davanti a tutte le persone. E dopo, per esempio, per trovare, normalmente, un avvocato per defendere è molto difficile. Molto difficile. Perché gli avvocati si rifiudono. Ma invece, in questa cosa, c'erano 500 avvocati con fiori, per dire benvenuto, anche di offrire il servizio per difendere a lui. Più di 500 avvocati. Per difendere l'assassino. L'assassino. Viene utilizzata proprio come uno strumento di persecuzione. Persecuzione è una propria... È il vero dramma. Addirittura, anche per scopi di scalate lavorative, comunque... Sì, per esempio, questo è proprio il primo punto, è il punto principale usato per fare persecuzione, specialmente i cristiani e anche a volte altri musulmani, anche specialmente anche... C'è un gruppo... Altre minoranze. Altre minoranze, che chiamano Ahmadi. Per esempio, un ufficio, un cristiano, ha un posto un po' alto. Importante. È importante. È una... Qualsiasi persona tra questo ufficio può dire che questo ha fatto blasfamia contro il profeta o contro il Corano o contro la famiglia di profeta. Dopo di questo, per lui e per la sua famiglia. È la fine. Io dico impossibile per vivere in Pakistan. Perché basta l'accusa, non serve una prova. Basta l'accusa, perché non è... Il processo a volte non è seguito. A volte quando, durante il processo, quante persone? Io, fino al 2012, più di 50 persone erano uccise fuori del processo. Fuori del processo. Questo era proprio di guardare, di mostrare. Questo è proprio usato, per esempio, quando uno è condonato sotto questa legge. Non è solo quello che lui soffre. Soffre, prima di tutto, lui, la sua famiglia e tutto il territorio dove ci sono cristiani. Ci sono tanti, tanti esempi. Per esempio, di Joseph Caluni. È un proprio territorio dove c'erano cristiani, proprio centro città. e uno cristiano. Ancora non è tutto chiaro che durante la notte Sanval c'era un cristiano che dopo il lavoro parlava con il suo amico musulmano e anche dopo che hanno bevuto alcol e hanno cominciato un discorso religioso e forse in queste cose ha detto qualcosa profeta. E dopo il giorno seguente il suo amico musulmano ha detto gli altri che ieri notte ha detto offeso il profeta. Nel giorno seguente c'era pulizia, c'erano tutti ma più di 2000 persone hanno fatto attacco su questo territorio dove c'erano cristiani. Questa comunità. Questi comunità. I cristiani avevano già paura, hanno lasciato le loro case e i musulmani hanno usato una camichilla speciale di bruciare tutte le case avendo tutte per esempio già è una sofferenza c'erano più di 200 famiglie per fare una casa e di costruire e anche fare le cose quanto costa tutta la vita certo e un secondo un'ora tutta la tua casa è bruciata cosa tu senti? Voi come comunità di frati cappuccini avete diciamo anche una una missione importante da portare avanti immagino che non sia facile per voi essere sacerdoti in quei posti sì perché questo quando tu alzi la tua voce e già dietro ci sono le persone che ti chiamano e dicono che se segui questo processo domani tu non sarai e i frati proprio anche le persone che alzano voce tutti hanno la paura tu adesso vivi a Roma da circa quattro anni secondo te l'occidente rispetto a questo dramma che è appunto la persecuzione dei cristiani o comunque la vita difficile dei cristiani in un paese come il Pakistan secondo te l'occidente sta facendo abbastanza? dovrebbe esserci più più attenzione forse ci vuole ci vuole più attenzione perché là già noi siamo cristiani sono un punto 5% ufficiamente e questo è un altro discorso perché il governo non vuole mostrare che siamo più e già siamo minoranza quando questa legge come nacque di proteggere la minorità adesso loro sono già il 97% e noi siamo un punto 5% cosa hanno la paura di noi e solo io dico che questo è già un modo di sottomettere i cristiani e altre minorità ascolta noi qui siamo a San Giovanni Rotondo so che tu sei legato oltre ovviamente dall'abito che porti ma anche da una storia particolare a San Pio perché il tuo primo incarico da viceparroco l'hai avuto proprio in una chiesa intitolata a San Pio sì questo era proprio una grande gioia quando anche era bambino mi era proprio tanto dovesione verso San Padre Pio per questo appena quando ho preso la messa ho avuto tre ricariche tre responsabilità come direttore per il giovento per il nostro diocese e anche era viceparrocco o nel San Giuseppe Parish la parrocchia San Giuseppe nel Laor e anche era guardiano nella comunità e durante questo io ho avuto la prima possibilità di fare la dedicazione della prima chiesa come sacerdote ho avuto la possibilità di dare il nome come la prima chiesa dedicata a San Pio nata a Laor Laor e anche il primo la chiesa che io ho cominciato il mio servizio e questa chiesa è proprio una grande in Laor in Laor più o meno più di mille persone può comandare c'è una possibilità di più di mille persone e con i miei altri frati questa chiesa in Laor abbiamo dedicato con San Padre Pio Church e hai organizzato anche hai accompagnato tanti giovani anche qui pellegrinaggio gruppi di giovani nel nostro come direttore per Gionto ho fatto tanti gruppi di giovani come in Laor c'è un altro posto chiesa in Batapur c'è un nome particolare della Laor l'ha anche fatto il gruppo di ragazzi giunto per Padre Pio youth sin Padre Pio e anche altre parti della parrocchia hai affidato a San Pio una preghiera per il tuo paese per la tua terra sicuramente perché cosa speri per il futuro del Pakistan io in questi tre quattro anni mi sono sono visitato il santuario Padre Pio più o meno cinque o sei volte era proprio un amore speciale e sempre ho fatto la preghiera particolare per la mia terra prima di tutto che ci sarà la pace e dopo che il Signore che con intercessione di Padre Pio che ci sarà la giustizia con cristiani specialmente l'eliminazione di questo legge blasfamia in Pakistan questa era la mia preghiera sempre a Padre Pio una volta speciale specialmente in 2016 quando ho avuto una possibilità durante la processione ho avuto di portare a Roma non qua a San Giovanni durante la festa di San Padre Pio di portare il suo corpo e già era una cosa proprio molto speciale per me è fatto proprio accanto a Padre Pio questa preghiera mi ricordo quei sentimenti proprio sentimenti speciali grazie grazie fra Jazad noi ci uniamo alla tua preghiera davvero per la tua terra perché ci possa essere la pace perché possa terminare la violenza e le persecuzioni grazie per aver portato la tua testimonianza qui da noi grazie a voi grazie a voi Grazie a tutti.